Tutti gli ShinSonic sono diventati umani e volevano distruggermi. Li ho ripresi dalla telecamera mentre visitavano casa mia e litigavano tra loro. ShinSupersonic e ShinSonic sono a casa mia. Mi dispiace, volevo baciarti. Aspetta. Non sono ShinSupersonic, hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno di ShinSupersonic. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio, cosa sta succedendo qui? ShinSupersonic. Sedi questo. No, mai. Dammi quello. No, ora esploderò. Oddio, cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa pozione ci ha trasformato in bambalene e ora devi scoprire chi di noi esce in Supersonic. Bambam, quale pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joel. L'hai baciato. No, 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 man. Quindi abbiamo ancora dieci bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima bambalena. Wow, bellissima. Prossimo. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok, non sospetto. Prossimo. Ciao, dove ti stai nascondendo? Per favore, fa male. Sono forte. Um, non suona esattamente come bambalena. Ma va bene. Prossimo. Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Um, penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene, ultimi due. Cosa? Ok, questo è Opila, ma l'ultimo. Ok, questo sembra normale, quindi tu, stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nove bambalena. Oh my god! Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Ok, bene. Prossimo. Non male. Sembra reale. Ok. Questa persona era sospetta prima. Attaccami. Dove pensi di andare? Wow, era come bambalenas. Non sei più un sospetto. Prossimo. Aia, la mia testa. Era reale. Prossimo. Ora tu. Cosa era quello? Non è bambalena. Fai di nuovo. Il secondo era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh fratello, perché hai lo spavento di Nabnab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Un. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Ahia. Perché lo spavento di Bambam? Oh, ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah, era Bambam. Ops. Ok. Prossima categoria. Disegnati ora. Ok, fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow. Buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Film? Cosa? Um e nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Scerifo che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah, avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Ohio Bamban. Prossimo. Bene. Ok prossimo. Cosa? Figo. Prossimo. Bambino ma Bamban. Quindi ok. Prossimo. Bamban malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um e... E tu? Looks kind of suspect. Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Oh! Oh my god! Oh! Non è il migliore. Prossimo. Oh my god! Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No no no. Ne restano tre. Facciamolo. Vai. Siete al sicuro ragazzi. Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato, dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas dué pour des saints. Um, siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok, quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi. Ah, è ora di cambiarti. Ah, perfetto. Un strano. Ok, tu. Mi ha portato a Umme, in prigione. Cosa? Non credo sia corretto. Ok, tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok, tu. Mi ha portato in bagno. Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello, sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok, non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora, Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Siete pronti? Sì, sì. Wow, è così veloce. Prossimo. E prossimo è prossimo. Ok, vediamo chi ha vinto. Bravo, sei stato veloce. E aspetta, perché ne manca uno? Mio Dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca seline. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow, sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo cinque bambalene rimaste. Ok. Quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow. Sembra bambalena. Ok. Quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok. Dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nabnab. Molto strano. Ma ok. Ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello. Stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok. Quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok. Quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio dio. Questo è sospetto. Hai il corpo di nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Pickles. Mi dispiace. Ok. Quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok. Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così. Ok. Questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok. Ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok. Questo è sospetto. Due persone sono in Pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con nabnablena. Ok. Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di Pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un Pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da Bambanni e poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio. Sono così intelligente. Sei intelligente come Bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio. È la cosa di Lumaca Selene. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena Bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio. È come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. No. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei era la cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Tu scrivi questo. Non ho scritto. Non ho scritto. Non ho fatto questo. Stop. Non ho scritto. Stop. Sono seriato. Sì. È vero. Tutti amavano Bambalena. Aveva dei bambini con Bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolci. È stata colpita da Jammo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok. Vediamo i risultati. Um. Non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è Bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Zambo Josh. Mio dio. Ok. Quindi sono due bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nub Nub. Fratello. Era un maschio. Aspetta. Bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok. Sai cosa? Sei falso. Impossibile. Nub Nub. Ok. Questo è il vero Super Simson. Iai. Sì. Finalmente mi hai trovato. Qualcuno ha ucciso Bambalena. E anche qualcuno ha ucciso Nub Nub. Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino. Chi è l'assassino? Aspetta. Mettini giù. Prima Bambam. Vedo i tuoi denti su di lei. Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore. Già. Uh-huh. La la. La 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 la. La la la. La 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 la. Guarda! 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 hai il mio braccio oh mio dio mi dispiace mani in alto sei arrestato quindi l'hai uccisa ho solo morso la sua mano ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione impossibile che sia in prigione ma aspetta o no abbiamo la stessa cella ah finalmente posso vendicarmi mio dio quindi l'hai uccisa il caso è chiuso no aspetta ho ucciso un poliziotto per salvarla ah sei chiuso qui dentro no mio dio mi hai salvato bacio mio dio quindi li siete innamorati alla fine si ok passiamo al prossimo fatta un uro stavo giocando con bambalena e nabla oh mio dio è stato così cattivo ma poi si è vendicato su di me e bambalena spero che nessuno mi spaventi di colpo amico fammi uscire ok quindi nabla l'ha solo spaventata di colpo ma aspetta cos'è questo il naso di coach piccol no mi stavano prendendo in giro dove sei? ah cos'è questo? il mio naso lascia che lo tagli per te no no oh mio dio cosa è successo dopo? mi sono vendicato su di loro ehi cane mi puoi dare il tuo naso? lasciate che lo faccia io per voi grazie ora di vendicarsi amo il mio nuovo naso ehi è la tua fine ora è il turno di bambalena ok vedo bambalena ehi dammi il tuo naso ok grazie ehi bambalena muori ehi 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 brother no 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 ah quindi hai ucciso nabla e bambalena non lo prometto impossibile figlio di bamban l'hai ucciso tu? non sono stato io lo prometto ho invitato bambalena al mio concerto ma nab nab non piaceva l'idea ehi bambalena ho fatto qualcosa per te cosa? cosa sta pensando? lei è la mia cotta quindi cosa è successo dopo? mi sono vendicato ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? vai ah tempo di riposarsi quindi l'hai ucciso caso chiuso no impossibile chi lo ha fatto? aspetta c'è una siringa strumento del dottore penso che il rosso potrebbe ucciderlo non ero io cercavo di farli mutare ora di farti mutare mangia questo ah no 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 ah ora tocca a te no no ha funzionato ah e ora è il momento di unirvi mua perfetto sapevi che avrebbe potuto ucciderli? si ma non è successo mio dio l'umaca selina è il tuo muco li hai uccisi? no no in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore cosa stava facendo stava schivando meme lol ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab mi ha buttato in piscina mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri di nuovo aspetta a dell'alfabeto hai ucciso bambalena e nab nab ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me tempo di sedersi ah un'ora dopo ho aggiunto delle spine su di me si pentirà di essersi seduta su di me tempo di sedersi ah eh 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 due ore dopo ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a bambalena ceniamo insieme ok prendi posto sarà la cena migliore sto rompendo con te aspetta cosa cinque ore dopo ultimo scherzo aggiungerò della tnta a a a a o voglio dormire ho avuto una brutta giornata no 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 a a a aspetta agrer è troppo hai distrutto la mia vita vieni qui cosa è successo dopo ti ha eliminato Sì, mi ha ucciso in cento modi diversi. Ti faceva male? Sì. Aspetta, qualcosa sta dando i numeri. Amanda, l'hai fatto tu? Ho visto Bembalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito. Tempo di guidare la mia nuova auto. Ferma, ferma. Ferma. Lei è uccisa? No, lei è sopravvissuta solo con una botta in testa. Capisco. Ah. Amanda, anche lei è morta. Aspetta, vedo un coltello. Coltello dello sceriffo. Ehi, tu l'hai fatto. Stavo solo togliendo le loro maschere. Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt. Prima Bambalena. Amico. Altre maschere. Amico. Mio Dio. Altre maschere. Ehi, torna qui. Amico. Cosa? Ok, prima la fata. Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wally. Oh, my God. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no. Sono brutto. Ah. Cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo A-A-A. Skipping. I-A. Ok, dopo Nibbles. Oh, my God. Adam di Lenkibox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò A-A. Flamingo. Wow, pazzesco. Prossimo NabNab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Oh, my God. M. Chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1M average. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bamban. Vediamo. No, per favore no. Cosa? Rick. Ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo è Squalo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo, Pigster. Quattro. Kailus. Prossimo allenatore Piccols. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo NabNab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah, perché l'hai fatto? Hai ucciso NabNab e Bambalena? Odiavo NabNab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta. Sono morti? Aspetta cosa? Sì, no. Aspetta, vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì, Bambalena. Lo sposerai? Sì. Aspetta. No, lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No, per favore no. Per favore no. Ma è... No, perché lo hai eliminato? Perché chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No, mio fratello. Quindi hai ucciso il falso NabNab. Sei un sospetto. Ah, opia. Perché? Era Zolfius. Non io. Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo. No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e NabNab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di Bamban. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Aspetta. Cosa stai facendo? Mio dio Pips. Quindi hai fatto tutto tu. Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Evviva. Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale. Testiamolo. Ho creato dei bambini bellissimi A. Mutiamoli. Fatto. Non mi sento bene papà. Vieni qui papà. Ancora. No. Oddio. Oddio. Ha funzionato. Il mio pennello è il migliore. E mi aspetta. Ehi. Riportaci alla normalità. Oh. Orario della lezione. Bambini. Disegnatemi. Facile. Buono. Evviva. Il mio turno. Buono. Lascia che te lo disegni. Che cos'è questo? Cattivo. Aspetta. Mi dispiace. Ho troppo potere. Non disegnerò mai più niente. Popcat cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare. Fatto. È la tua fine popcat. Are you sure about that? What the hell? Oddio. Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri, come posso fare soldi? What is that? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari. Oh my god. Prima io. Ah, perdenti. Il mio turno. Posso provare? Ah, sì, ma perderai. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Sta volando. Aspetta, come? Yes! Yes! Facile. Questa è impossibile. Ho bisogno di una nuova macchina. Ah. Andiamo. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non posso credere a quello che è successo, ma ecco il tuo premio. Sono ricco. Sono ricco, ma ne ho bisogno di più. Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra. Oddio. È questa la mia macchina? Sono il primo. Bel salto. Il mio turno. Che bel salto. Tocca a me. Perdenti. Buon salto. Tempo per me. Nug. Arriverò alla mia Lambo. Salto intermedio. Salto intermedio. Ora è tempo per il bagno. Aspetta, è troppo lento. Lasciate che mi disegni una nuova. Fatto. Wow. Oh mio Dio. Oddio. Quasi la fine. Congratulazioni. Hai vinto la terra. Ah, andiamo. La polizia. Lui sta imbrogliando. Catturatelo. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Devo disegnare. Disegnare di nuovo. Fatto. Ok, è ora di distruggerli. Wow, ha funzionato. Capo, cosa devo fare? Saltami addosso. Grazie, ora devo nascondermi perché ce ne sono altri. Oh no. Cosa dovrei disegnare dopo? Boom. Pokat, aiutami. Stanno distruggendo la mia fabbrica. Oh Dio. Disegnerò personaggi personalizzati. Non ti preoccupare. Fatto. Wow. Ora penserò a qualcosa di strano. Fratello. Che bello. Sta qui. Prossimo. Ah, incredibile. Ultimi due. Oddio. Prossimo. Fatto. Wow. Ok, attacco. Grazie mille. Popcat. Nessun problema. Ma ora sei in arresto. Mi dispiace. Cosa? Si fermi. Si fermi lì. Incredibile. Sono in prigione. Disegnerò la fuga. Bello. Ume. Ume ciao. Sto valutando da ora. Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova. Lo farò io. Bello. Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi. Tutti i miei amici sono morti. Aiutami per favore. Disegniamo. Fatto. Evviva. Prossimo. Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire. Mi sta maltrattando. Per favore disegna un crucifisso. Non c'è da preoccuparsi. Grazie. Grazie. Tutto l'uomo. Il prossimo è Zolfius. Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco. Ok. Fammi provare. Fatto. Grazie. Voleva essere più grande della terra. Oh, sarà difficile. Ma ce la farò. Ok. Ce l'ho fatta. Oh my God. What the hell? Bene. Bene. Ha rubato l'autobus con i bambini di Randy Friends. È brutto. Quindi ciao ciao. Facile. Ok, il prossimo. È stato picchiato dai bulli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente. Disegniamo. Fatto. Wow. Questo è così fido. Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito. I bambini restano qui per un momento. Dei bambini. Brother, no, no, no. Una buona cena. Aspetta, non mi sento così bene. Perché ci hai mangiato? Ehi, se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora. Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con il tazzo. Smettila di inseguire le persone. Fratello, il prossimo. Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo. Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea. Perfetto. Il prossimo. Fatto. Oh no, fa schifo, ma lo amo. Aspetta a prendere il vestito. Grazie. Il prossimo. Fatto. Forse l'ultimo. Oh my god. Disgustoso. Che cosa hai detto? Il prossimo. Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam. Oggi valuterò tutti i vostri jump scares. Prima. Hai. Ora tu. Buono. Prossimo. Ora tu. Ah, capito. Non fa paura. Il prossimo è lo squalo. Spaventoso. Ora scream Eugen. L'ultimo. Buono. Wow, è stato impressionante. Il prossimo morto. Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam. Mostrerò la tua faccia nella vita reale. No. E me sei metà cattivo e metà buono. Vai libero. Prossimo. Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle. Ehi, io farò una buona cena. Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando. Farò saltare in aria le loro case. Ah. Buono. Ora tu. Sono troppo debole. Finalmente. L'ultimo. Non funziona. È troppo forte. Sei sopravvissuto? È bello. Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro. Lo farò. Wow, grazie. Voleva una moglie e dei figli. Ok, ti disegnerò una moglie e dei figli. Siete dei bellissimi bambini. Ah, bello. Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger. Quindi li vuole indietro. Cibo piacevole. Torna indietro. Cuciniamoli. Non sotto i miei occhi. Per me sei una persona perfetta. Ok, il prossimo. È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico. Non credo che le tue scorreggie siano così cattive. Sei sicuro? Sto per morire. Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo. Oh, cos'è questo? Lo mangerò. Buono. Oh, aspetta. Devo andare in bagno. Buono. È ora di lavarsi le mani. Che diavolo. Il prossimo. È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso. È ora di fare pipì. Fatto. Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo. Per il suo odore. Lascia che lo disegni. Fatto. E per me fai solo schifo ma sei una brava persona. Prossimo. Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei. Per favore, baciami. Sei così intelligente che dovremmo stare insieme. Ok. Prossimo. Volevano avere dei figli ultra intelligenti. Ok. Fammi disegnare. Fatto. Sei così intelligente. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla. Wow. Wow. No. 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 Smettila di inseguirmi. Devo disegnare. Ok. Fatto. Ora. Penso che entrerò. Devo scegliere. Rosa. Muso di maiale o muso di formichiere. Maiale. Quattro occhi o due. Quattro. Prossimo. Zoccoli di maiale o zampe di pollo. Zoccoli ovviamente A. Dai. Una testa o due teste. Una. Prossimo. Denti da bambino o denti da nonno. Nonna A. Amo mia nonna. Mamma mia. Orecchie da gatto o orecchie da elefante. Piatto. Cosa. Sto bene. Essere un cuoco. Jumpscare più spaventoso o carino. Il più spaventoso. Wow sono un maialone. Wow sono il prossimo. Essere nero o grigio. Nero. Bello. Prossimo buco con denti sulla pancia o senza denti come squaloli. Dai. Avere ali o pinne. Pinne. Dai. Squalo o delfino. Squalo. Oh. Grande sorriso o grande tristezza. Sorriso. Forte o debole. Forte. Assassino di Stinger Flynn o amico di Stinger Flynn. Ovviamente assassino. Oh ma God. Bello. Mio Dio sono il prossimo. Ciano o rosso. Ciano. Aspetta. Un sacco di braccia o no. Tante. Dai. Sembrare spaghetti o pizza. Spaghetti. Sono fatto di noodles. Dieci occhi o occhi sporgenti. Occhi sporgenti. Essere cavaliere o ninja. Ninja. Già. Ok prossimo. Denti affilati o no. No. Dai. Jump scare o jump scare più spaventoso. Quello più spaventoso. Mio Dio sono così spaventoso. Sono il prossimo. Tono di pelle viola o blu. Viola. Magro o grasso. Magro. Nessun occhio o tanti. No. Braccia lunghe o corte. Lunghe. Ma tu aiuti. Occhi sui piedi o sulle mani. Occhi sui miei piedi. Debole o forte. Debole. No. Sembro male. Jump scare o no. Jump scare. Bello. È fantastico. Wow sono il prossimo. Giallo o rosso. Giallo al 100%. Collo lungo o corto. Lungo. Ovviamente. Dei. La mia testa. Occhi spaventosi o normali. Spaventesi. Wow. Lingua lunga o corta. Lunga ovviamente. Wow wow wow. Bello. Prossimo. Puntini o strisce. Cosa intendi? Dei. Puntini. Mio Dio. Essere piccoli o giganti. Giganti. Jump scare il più spaventoso o carino. Il più spaventoso. In cosa mi sono trasformato? Wow è il nostro turno. Siamo trigemini. Scegliamo il colore. Prossimo. Scelgo tre occhi felici. Tre occhi arrabbiati. Occhi tristi. Ok non c'è opzione per i denti e non dovremmo prenderla. Scegliamo. Denti da bambino. Denti normali. Un sacco di denti. Prossimo. Prossimo ragno gu. Prossimi cappelli. Prossimo. Avere veleno o no? Avere. Wow sembri così fico. Il mio turno. Il mio turno. Incredibile. Oh mio dio dove sono? Ah il primo è pronto. Tempo per altri. Ehi cosa ci hai fatto? Ti distruggeremo ora. Mai. Da ora siete miei figli e io vi controllo. Cosa? Dove sono? Devo controllare tutti i vostri jump scares che equivale a uccisi. Prima la giraffa. Andava bene. Ti sto prendendo. Va bene. Prossimo Zolfius. Ah. Questo era spaventoso. Ti sto prendendo. Ok. Il prossimo è Apollo. Ah era medio. Ti sto prendendo. Cacca. Ciao ciao Opila. Vai a spaventarmi. Ho paura. Paura media. Ti sto prendendo. Va bene. Ora Stinger. Facile. Nu. Fa male. Spaventapasseri fantastico fratello. Ti sto prendendo. Grande. Ora lo sceriffo. Vieni. Ah. Era triste. Non spaventoso. Cosa? Ti sto prendendo. Male. Oh no. Spaventapasseri pigro fratello. Per favore no. Ah. Lumacca. Ti sto prendendo. Fantastico fratello. Va bene il prossimo. Silenzio Steve. Meglio stare attenti. Cosa? Era così spaventoso. Ti sto dando. Grande ancora. Prossimo. Fratello sembri un bambino. Cosa hai detto? Era ultra doloroso. Fantastico fratello. Prossimo. Pronto. No. Ti sto prendendo. Grande. Ok ora. Tempo per pigster. Svegliati. Ok. Scusa. Jump scare. Non fa paura. Cosa? Ti sto prendendo male male. Meglio correre ora. Dai. Devo vignitarmi di lui. Ora tu. Se vuoi salvare la vita di Stinger Fallen, metti mi piace e iscriviti in due secondi. Grazie. Bene. Ti sto prendendo grande. Noodles vai. Abbastanza bello. L'ultimo. Mamablena. Per me è molto medio. Cattivo. Ok. Quindi siete nel mio team ragazzi. Chiamiamo la polizia. Siamo qui. Polizia polizia. Prendeteli. Ok. Cosa sta succedendo? Tutto il tuo team è arrestato. Oh my god. No. Poliziotto. Cosa stai facendo qui? Devi valutarli. Oh bello. Ha rubato il maialone con la sua grande mano. Era mio padre. Mostro. Non mi dispiace. Prossimo. 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 Quando l'ha fatto, ha mostrato il vero volto del maialone. Wow. Dove sono? Prossimo. Vi mostrerò il mio vero volto. Um ok. Mio dio. Il tuo viso è bellissimo. Si è innamorato di un altro Stinger Flynn. Va bene. Aveva un sacco di fratelli e catturavano bambini in piscina. Lasciami in pace, per favore. Mi nasconderò nella piscina. Um me. Cos'è questo? Stinger, prendetelo. No, 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 no. Male, male, male. Stai morendo. Aspetta, sento l'aggiornamento. Wow, sono a blocchi. Il prossimo. Il dottore iniziò a catturare ogni giardino di bambam nelle gabbie. No, no, no. Tornate indietro sprovveduti. Ora siete chiusi in gabbie. Era molto scortese da parte del dottore. Erano chiusi in gabbie dal dottore perché voleva farli mutare. Ok, ora vi muterò. Per favore, no. No, per favore, non farlo. Troppo tardi, amici miei. Troppo tardi. Ragazzi, siete mutati. Mio Dio. Li ha chiusi tutti in gabbia ed era troppo piccola per loro. Ok, ragazzi. Per me siete brave persone. Venite qui. Cos'è questo? Ok, aggiornamento. Bello. Il prossimo. Era una nuova entità nel giardino di bambam. Mi chiedo chi sia questo. Vuoi vedere la mia forma finale? UMM sì. Ma poi ha mangiato la persona che lo stava mangiando. Credo che il mio ramen sia pronto. Perfetto. Qui. Ecco a voi. Grazie. Smetti di mangiarmi. Aspetta cosa. Aspetta cosa. Wow, è male. Erano i noodles delle persone e venivano avvelenati da esso. Chi vuole noodles? Io. 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 Non mi sento tanto bene. UMM. È meglio che mi nasconda. Ma stava facendo jumpscare alle persone come noodles. Wow, bei sushi. Per favore, esci. Non riesco a toglierlo. Per me dovresti scende. Scusa. Sento il prossimo aggiornamento. Wow, prossimo. Aveva un'intera armata di frutti. Questa è la mia intera famiglia. Ha organizzato un quiz truccato in cui la gente moriva. Benvenuti al gioco a quiz. Prima indovinate chi è questo. Un bambam. Sbagliato. Prossimo. Due più due uguale. Quattro facile. No, cinque. Cosa? È tutto per oggi. Ciao. Quando qualcuno rispondeva male diventava arrabbiato e uccideva. Voglio vincere di soldi. Indovinate questi due personaggi per primi. Opila nerd. E... Stinky Noah. No. Uccello Opila. E Stinky Joy. Sbagliato. Attaccala. Fa male. Ora attacco finale. Per me sei davvero cattivo. Tempo di aggiornamento. Wow. Prossimo. Aveva un collo così lungo che gli aerei volavano verso di lei. Ah 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 ah. Sei così piccolo. Meglio guardare mia sorella. Oh my god. Oddio. Non è almeno. Cos'è questo? Wow è strano. Stava spaventando la gente a chilometri a causa del suo collo. Lasciami in pace. Ah ah ah. Eccomi al sicuro. Um me aspetta. Oh my god. Di nuovo. È strano. Si stava confrontando con fammi farlo per te. Qualcuno può aiutarmi a far uscire i miei bambini. Sì. Grazie. Ora il secondo. Sono pronto. No. Figlio siamo bloccati. Era così cattivo e meschino. Ciao. Prossimo artista. Ciò che disegna diventa reale. Quindi disegna molte ragazze. Lascia che disegni qualcosa. Wow wow. Baciami. Si disegna un auto volante e uno stile di vita da miliardario. Voglio essere miliardario così tanto. Wow. Sono ricco. Ha disegnato nuovi mostri spaventosi dal giardino di Bambami se ne pentite. Per me eri una cattiva persona. Sento l'aggiornamento. Wow. Chissà cosa c'è dopo. È il momento per loro. Ha fatto la sua canzone. E' una triste. Ma qualcuno l'ha adottata. Prima. Dopo. È stata portata via dalla famiglia dalla polizia. Mio dio. È ha una storia. Vieni qui Opila. Dai. Grazie. Ah. Aggiornamento. Wow. Il prossimo. Avevano una triste storia di fondo. Per me è così triste. Vieni qui. Il prossimo è il poliziotto Barry. Ha mostrato tutti i volti di Dartenof Bambam. Oggi vi mostrerò tutti i volti di questi criminali. Prima Bambalina. Oddio. Impossibile. Bel volto. Prossimo. Bamben. Sembri sospetto. Wow. Hai questa piccola lingua. Prossimo sceriffo. Oddio. Amico. Gemelli. Il costume. Il prossimo è l'umaca. Pirata. Prossimo. Jumbo. Sto iniziando a vedere. Wow. Il prossimo è opila. Ah 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 ah. Cosa? Prossimo nab nab. Brutto. E Stinger. UMM non ha un volto. Dai. Era male. Il poliziotto Barry ha mangiato troppi prigionieri e aveva bisogno di un'operazione. Scapperò. Ti mangerò. No. Cinque minuti dopo. Ehi dottore ho bisogno di un'operazione. Non mi sento bene. Ok vieni. Oddio. La tua pancia è così male. Prossimo morto. Il poliziotto Barry ha rubato il balloschibidido e ha iniziato a ballarlo. Ha chiuso tutti i meme in prigione. Il cuoco del poliziotto Barry faceva pancracki con personaggi famosi e poi diventavano reali. Ok fratello. Mi hai fatto arrabbiare. Ciao. Dal jambo Josh più piccolo a quello più grande e al jambo più grande del pianeta. Devo salire su queste montagne russe. Controlla la tua altezza. Ok nessun problema. Sei troppo piccolo. Vai al posto per bambini. Sarai il mio nuovo amico. Cosa? È il mio turno. Beh salì. Ho un'idea. Scaverò la buca e ci entrerò. Sì facile. È stato facilissimo. Pensavi di potercela fare? Jump scare. Ai. Non posso arrendermi. Aspetta posso saltare attraverso. Andiamo. Ce l'ho fatta e sono diventato più alto. Il prossimo. Wow. E poi. Ehi non lasciarmi. Devo saltare. Sì. E sì. Wow. È più alto. È il fratello. Cosa? Come ci sei arrivato? Mi sono intrufolato. Ti spezzerò tutte le ossa. Fermati. Le mie ossa. Papà mi ha toccato. Non mi importa. Lui è più alto e migliore. Grazie. Ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile. Facile. Wow. Sei così alto. Il mio turno. Difficile. Il prossimo tentativo. Sì. Wow. Questo è difficile. Sì. Ah sono un professionista. Figlio sono fiero di te. Cosa? Salto. Yes. 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 No. 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 Perdente. Vero. Togliamolo di mezzo. No. 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 Il giorno dopo. Sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia. Fermati. Ragazzi. È il momento dell'attività all'aperto. I bambini saltano attraverso quegli animali. Perdente. Perdente. Tutti mi maltrattano sempre. Devo smetterla. Bello. Yo. Perdente. Come è possibile? Il potere della mente. Sì. E l'ultimo. Ancora no. E adesso? Non può essere così. Chiamo mio padre. Maison dovrebbe vincere. Ha barato. Ok. Controlliamo. Ok. La persona che salta sul livello più basso perde. Ok. Sono il primo. Ottimo salto. Penso che Jumbo non mi batterà. È il mio turno. No. Avrò il miglior salto di tutti voi. No. Abbastanza buono. Grande salto. Ok. Il mio turno è stressato. Ma posso vincere? Wow. Ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Ehi. 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 Wow ce l'ho fatta. E sono ancora più alto. Ok. Sei davvero bravo. Congratulazioni. Sì. È vero. Eri l'uomo più alto del mondo. Grazie. Un me. Cosa? Non può essere così. Un me. No 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 no. Un ciao. Distruggi le sue ossa. Distruggi le sue ossa. Mi ha rotto tutte le ossa e sono in prigione e lui ora è il più alto. Tu sei la persona più alta. Grazie. Devo uscire. Torta. Mangiamo. Wow. Era con la chiave. Corri. Corri. Ora devo saltare. Saltare. Ok. Questo è difficile. Papà, aiutaci. Sono così alto. Bello. Hai il vincitore. Nel frattempo. Questa è una gara per la persona più alta del mondo. Sono il primo. Bravo. Buono. Non abbastanza. Mi fanno male le ossa. È il mio massimo. Ma sono ancora il migliore. Aspetta. Aspettate il mio tempo per salire. No. Non puoi andare più in alto. Io posso A. L bozzo. Non può essere così. Farò il furbo. Cosa? Hai bevuto una pozione illegale. E adesso? Opila Verda ha vinto. No. Aspetta. Sto sognando o sta diventando più grande? Sono lontano. Vero? L'operazione è finita in sicurezza. Jumbo è la persona più piccola del mondo. Non può essere così. Sono scappato via. Ora devo tornare alla mia altezza. Veloce. Salto. Sì. Wow, mano. Wow, è bello. Opila Verda mi ha detto di colpire te e lo farò. Il prossimo. Fermati. Mai, mai. Questo è difficile. Wow, ultrasalto. Ora. Ora cosa? Sono più alto. Umme. Facile. Salto. Bello. Il prossimo salto. Oh, my God. Wow. Aspetta. Ho sentito che qualcuno... Prenditelo. Oh. Oh, my God. Salto. Oh, my God. Oh, my God. L'ha fatto. Oh, no. OMG. Veloce. Devo saltare. Mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il giorno successivo. Ma se non è così... Wow, il prossimo. Difficile. Ma ce l'ho fatta. E l'ultimo salto. Oh, my God. Salto. Mi è riuscito. Oh, Pila. Mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni. Chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona. Ok, noob. Sono il primo. Bene. Ah. Oh, my God. Questo è il mio limite. È il mio turno. È il mio turno. Oh, no. È il mio massimo. Devo distruggerlo in qualche modo. Sono svenuto. Aspetta. Opila, un uccello. Opila verde è il nostro dio. Opila verde è il nostro dio. Devo distruggerla. Out. Ma prima ho bisogno di aiuto. Poliziotto Barry, puoi aiutarmi? Opila verde è troppo potente. Sì, questi sono i criminali più alti del mondo. Dagli un punteggio per farli aiutare te. Ok. Prima cosa. Ha le gambe lunghe perché è un robot. Mostrami. OMG. Qualcuno ha fatto 100 copie di lei per distruggere il mondo. Ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe. Tutti i miei Megan sono pronti. I am a robot. Aspetta. Chi è questo? Fermate subito le vostre azioni. Fermati. 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 Non è stato male. Ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici. La mia casa. È un terremoto. Ti do un voto negativo. Scusa. No. Prossimo. Saltiamolo. Sì, sì, sì. Era la persona più grande del mondo. Questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo. Pronto? Via. Che cosa? Fatto. È troppo grande. Bene. Ti ho sempre apprezzato Bro. Ha fatto una collaborazione con Mercoledì e tutti l'hanno amata. Era divertente. Ti do un buon voto. È dalla Turchia e la Turchia ha problemi con i terremoti. Quindi vuole che le persone aiutino donando. Unisciti alla nostra squadra Skibi. Prossimo. Sei così grande. Era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto. Voglio essere più grande. Sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi. Penso che sia arrivato il momento. Ho bisogno di te nella mia squadra. Vai al buono. Stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario. Mi chiedo chi sia il mio avversario. Ah ti distruggerò. Wow hai perso contro King Kong. Io ero sempre nella squadra di Godzilla. Aveva dei bambini grandi come lei. Ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina. Bro what are you talking about? Bene l'hai battuto. Prossimo. Era super grande ma Superman lo ha portato in aria e lo ha distrutto. Questa è stata la scena migliore che abbia mai visto. Bene prossimo. I suoi figli sembravano di Ohio. Mostrami i tuoi figli. Ok sono dell'Ohio. Morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso. Oh va benissimo. Sheriff e Lumaca. Voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle. Sono grandi? Si. Wow sono davvero grandi. Era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione. Sono così piccolo. Che cos'è questo? Eri una buona persona. Unisciti alla nostra squadra. Ora Ziphyr. Era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande. Wow bella lumaca voglio adottarlo. Nanna. 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 Mi dispiace ma ti lascio bambino. Ti ha abbandonato perché eri troppo grande. È così triste. Faceva jumpscare alle persone per liberare la sua rabbia. Mostrami il tuo jumpscare. Sono due persone rimaste. Ma perché è così piccolo? Era più piccolo di un atomo. Vediamo. Wow è così piccolo. Poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla. Mostrami. OMG. Quando si trasformava in ultra piccolo. Ok ho bisogno di te nel mio team. L'ultimo. Era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto. Era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo. Noo. God. Era il migliore nel risolvere problemi matemati. Nice. Ok amico sei nel nostro team. Vai al posto giusto. Ok il mio team è pronto. Dai tutti i tuoi poteri. Sto diventando troppo grande. Wow. Facciamo l'ultima battaglia. Ok inutile. Salto. Oh no. Ah e adesso cosa? Oh no. Jumbo Josh è stato ucciso con un cecchino. E non preoccuparti. Troverò chi l'ha fatto. Prima il cattivo dal film. Ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato. Oddio ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui. Sì ma è sopravvissuto. Oddio quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato. Sì quindi ho usato carri armati e eserciti. Cosa è successo dopo? Ha distrutto i nostri carri armati. Non mi distruggerai mai io e il mio padrone. Classico Jumbo Josh W. Non sei stato tu. Ma Jumbo Josh è stato ucciso. E vedo le piume di Shika e Freddy. Stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano. E vuoi comprare un po'? Un po' di cioccolato? Ne prenderò uno. Grazie. Poteva eliminarti. Non tu lui. Oddio bambà li hai uccisi. Sto mangiando personaggi di giochi popolari ma non ho mai mangiato Jumbo. Ho così tanta fame. Lasciami mangiare. Carne è molto cattiva. O vedo qualcuno di buono. Ancora cattiva carne. Fratello. Oh aspetta. Era mio amore. Adesso l'umaca. Ok nessuno di loro era buono. Ma penso che questo ragazzo possa avere un sapore migliore. Cosa stai facendo? Oh mi dispiace. Ok. Quindi ha quasi ucciso te fratello. Jumbo era brutale. Oh mi aspetta. Chi sei tu? Ero nella casa di Jumbo ed era spaventato di me. Perché questa cosa è nella mia casa? Aspetta ora è nella mia lavanderia. Devo andarci. Aspetta la vedo. È realmente qui. Oh no. Ehi tu. Quindi l'hai ucciso. Il caso è chiuso. No. È sopravvissuto. Non puoi spaventarmi in casa mia. Fratello. Quindi chi l'ha fatto? Ho visto Tamataki accanto a lui. Tu. L'hai ucciso. No. Mi ha eliminato. Vieni qui. O hai paura di me. NANI? È troppo. Mi hai sputato addosso. Jumbo è davvero brutale. HMM non ho ancora alcuna prova. Ehi PopCut. Controlla meglio Bambam. Oddio. Oh oh non puoi scappare ora. Per favore non uccidermi. Per favore no. Grazie Paffi. Bambam sei un sospetto ora. Ok volevo spaventarli. Bello. Li ucciderò. Ti hanno colpito con l'auto fratello. Non sono tuo fratello. Oddio Fluffy mi hai salvato. Grazie. Aspetta ma chi è questo? Cosa stai facendo accanto a Jumbo Josh? Mi ha adottato quando ero giovane e mi odiava. Nanana. Umme. Chi è questo? Che dolce uccello. Ti adotterò. Umme. OMG impossibile. No 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 me. Sai cosa? Sei troppo dolce per arrabbiarti con te. Ehi Opila aspetta. Fratello è un maledetto tsunami. No god please no. Ma lo pulirò. Fatto. Nu è troppo. Esci dalla mia casa ora. Dieci anni dopo. Aspetta qualcuno sta suonando. Sei tu uccello? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno. È morto. No lo prometto. Aspetta il mio schermo sta gliciando. Bibi è qui. Ciao. Ho hackerato il capitolo 4 del giardino di Bamban. Cosa? Wow il nuovo capitolo sarà finalmente lit. Ma hai ucciso Opila e Jumbo. No non l'ho fatto. Perché dovrei? Amanda? Hold up. C'è solo un hacker in questo mondo. Io... Oddio hai ucciso Pibi. Ma hai ucciso Jumbo. No. Mai. Stavo solo prendendo in giro lui. Ehi Jumbo lascia che ti disegni dei muscoli. Ok. Ha funzionato. Ora cambiamo il tuo volto. Cosa? Facciamone uno nuovo. Ora aggiungiamo delle gambe divertenti. Per favore fermati. Ok. Ho finito? Ciao. È stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto. Oh no. Oddio chi le sta scavando? No. Firma. L'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche Jumbo. No stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di Bamban. Prima questa cosa. Prossimo uno pallone da basket. Ok prossimo i figli di Opila. Tu vai al capitolo 3 per me. Perché sei dolce. Prossimo Kanguri. Prossimo. Bene. Prossimo Fiddles con i pantaloni AA. Ora prossimo Nabnablena e Nabnab. Buon jumpscare. Quindi ora meglio. Ok prossimo Bambalena. Mostrami qualcosa. Prossimo Uccello Opila. Ok tempo per Bamban. Bamban. Quindi ora Robot Bamban. Quindi il prossimo è il mio preferito ragazzo dal naso lungo. Ok quindi prossimo abbiamo la lumaca Seline. Mi piacciono i jumpscares così. Ma ora tempo per Stinky Joel. Ora è il momento per Long Joe. Bacio. E Nibbler. Kanguro fa Tauru dall'ohaglio. Oh god. Ok quindi prossimo pigster. Questo ragazzo. Ok andiamo avanti. Ne voglio uno tuo. Fa male. Di notte. Ehi tu. Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere quindi ora è il momento della vendetta. Ah. L'hai inciso. Il caso è chiuso. No aspetta non l'ha fatto. Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato. Questo è così cattivo. Spero tu sia sopravvissuto. Sì. Quindi sono qui. Oddio no way. Qualcuno ne ha fatto un pancake. Ho sentito dire pancakes. Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Jambo? Sì. Aspetta cosa? Eravamo su uno ship. Dai vai più veloce. Ok ok. Sono bloccato. Penso che sia scivolato. Oh mi dispiace. Aspetta. È morto. Non mi sento bene. No. Ha sopravvissuto al 100%. Oh my gosh. Mr Beast. Impossibile. Sono un grande fan. Grazie. Ma hai ucciso Jambo. L'ho appena spaventato con un poster. Che bel poster. Amo Mr Beast. Ho un infarto. Aiutami. Ho bisogno di un nuovo cuore. Oh mio dio cosa ho fatto. Non preoccuparti ti darò il mio cuore. Grazie ma Mr Beast cosa ti succede? Sto morendo. Sei un eroe. Grazie ma penso che lo sceriffo sia sospetto. Ehi. Firma. Stavo solo mostrando i loro veri volti. Ah ora è il momento di vedere i vostri volti. Bambalena. No. Per favore no. Sì per favore sì. È un ragazzo. Fratello. Prossimo uccello opila. No per favore. Wow. Cosa? Tipo sospetto. Ok è strano. Voglio vedere la faccia di Jambo ma ora Silent Steve. OMG. Oh mio dio. Gigachad dai video di Mr Beast. È me che mi hai preso. Ok pigster ora. What? No. John Pork ha iaccherato Cartoon Network. Un influencer di nome John Pork è stato trovato morto sulle rive del fiume Colorado. I primi soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina dopo diverse testimonianze oculari. Che diavolo. Ok prossima lumaca Selene. Creepcraft. Non calvo. Prossimo Nabnab. Guarda i video di Mr Beast. Prossimo uccello opila. Cosa? George Not Found. Fiddle's Ciano. Per favore non farlo. Lo farò. Mi dispiace. Mr. Beast. Prossimo. Stinger. Ha a bel faccia fratello. Ok prossimo e mio fratello sceriffo. Flamingo. Andiamo. Prossimo. Noddles. Dababy andiamo. E l'ultimo. Se lo farai ti spaventerò. Il mio preferito. Ah mai. Attacco. No. Non può essere così. Umme. L'hai inciso. No. Lo prometto. Ehi torna qui. Perché hai fatto questo? Tutti sceglievano i giocattoli del giardino di Bambane e nessuno sceglieva me. Quindi ho preso vendetta. Figlio. Scegli solo quattro. Ok facile. Brutto fratello. Li prendo io. Ok prendiamoli. Non può essere così. No. I miei giocattoli. Il caso è chiuso. Ho visto che Jumbo era morto. No. Era solo un giocattolo. HMM. Quindi chi potrebbe essere? Aspetta. Elefanti. Guarda. Ho un bambino. Non potevo eliminarlo. Aspetta. Hai dei bambini? Sì. Oddio. Così dolce. Luki li ha storditi. Lumaca. No. Non l'ho ucciso. Stava solo schivando i miei attacchi. Bene l'uomo diavolo rosso non ha funzionato quindi eccoci qui. Sospetto. Molto sospetto. Aspetta chi è questo? Ti assicuro che non l'ho ucciso. Stavamo solo lottando per una ragazza. Pesche. Ti amo. OMG è così bello. Lei è la mia ragazza. Ah vieni da me. Il troppo. Ti abbiamo preso. Non combattere mai per le ragazze. Non è Sigma. Non l'ho ucciso. Te lo prometto. Impossibile. Chi l'ha fatto? Aspetta chi è questo? Vieni qui. Ehi. Cosa? Indovina chi è reale ora. Oddio. Ok. Mostrami i tuoi spaventi ragazzi. Prima. Non fa paura. Ok successivo. Spaventoso fratello. Prossimo. Prossimo. Bello. E' l'ultimo. Spaventoso ma sei falso. Wow è una bambalena. Quindi ora dite qualcosa ragazzi. Piacere di conoscerti. Vedo tutto, sento tutto. Suoni come Zolfius. Prossimo. Prossimo. Siento lo siento. Cosa hai detto? Va bene non importa. Prossimo. Grazie a Dio. Sono così felice che tu sia qui. Pensavo che fosse la fine. Mi guardavo intorno e sono entrato nella stanza della sicurezza. Non è la voce di Zolfius. Ok l'ultimo. Dove ti nascondi? Per favore. Fa male. Ehi quest'ultimo sembra falso. Oddio Numaca Selene. Sono così vicino all'originale. Ne restano tre. Ho sentito dire che Zolfius era forte quindi colpisci questi muri e vediamo. Dai. Ok il prossimo giallo. Era più forte. Ok il prossimo. Il migliore di tutti. Quindi questo è falso. Nab Nab. Ok qui gli ne restano due. Quindi sto rischiando e uccidendo l'ultimo. Opila. Avevo ragione. Quindi perché eri qui? Odio Garten di Bambane e ho fatto jumpscare fight. Bambam versus mostri più spaventosi. È tempo di fare la battaglia finale. Sei pronto? Vai. Quindi hai ucciso Jumbo? Sì. Mi dispiace. Andrai in prigione. Ok ce l'abbiamo. Ho visto tutte le vostre vere facce. E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò. Aspetta cosa? Scappiamo. Non posso scappare. Mi nasconderò dentro. Qui. Wow. Bel posto. Vi vedo. No. Oddio ho sentito qualcuno morire. Lei l'ha ucciso. Trovarli è troppo difficile. Devo accendere i raggi X. Vedo qualcuno lì. Salta su. Ok. Il prossimo è qui. Lei è lì. Aspetta cosa è questo? A stella. Dove? Corri. Ciao ciao maiale. Schierare un nuovo mostro. Ok. Devo trovare il prossimo posto. Aspetta. Questo è il nuovo cercatore. Nu. Qui. Pensavo che ci fosse qualcuno qui. Ma ti vedo. No. Penso che se ne sia andato. Velocemente. Wow. Perfetto. Ti vedo. Penso di sapere dove si trova. Nu dove devo andare. Corri. Facile. Vieni un nuovo mostro. Oh no. Nuovo mostro. Corri. Qui. Umi questa stanza non sembra sicura. Oh no. Non so dove scappare. Wow dove sono. Oh no. È la mia fine. Devo saltare. È l'unica opzione. Ah. Ah è morto. Non ancora ha. Nel frattempo. Sono tornato. Ed è ora di imbrogliare a nascondino. Drone. Che cos'è questo? Ti ho preso. Oh no. Sta barando. Non è giusto. Aspetta. È tempo di scivolare. Aspetta no. Dove dovrei nascondermi? Qui. Ok. Velocemente. Ora via. Finalmente. Qui siamo al sicuro per ora. Oh grazie bambalena. Hai anche una piscina qui. Non sembra normale. Vero ma aspetta. Cosa? Guardate dietro di voi. Di cosa stai parlando? Oh no. Stinger. Vieni qui. Oh no. Nascondersi velocemente. Forse qui. Ok. Devo trovare un nascondiglio. Mi chiedo se c'è qualcuno qui. Oh no. Qui. Dove? No. 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 Oh cibo. Mi sento così bene. Mi vedrà. Sento l'odore di qualcuno. Oh no. Scappo. Torna. Così vicino. Ragazzo. Resterò qui. Devo usare il bambam volante. Cattura qualcuno. Ok. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Oh no. Velocemente. Pozione. Non c'è modo. Dove è andato? Non lo saprai mai. Dai. Have a great time. Ah facile. Me ne vado da qui. Veloce. Ho bisogno di un nuovo nascondiglio. Aspetta qui. Wow. Oh my god. Ehi. Cosa ci fai qui? O me nascondersi. Attacca. No. Non c'è modo. Correre. Cosa hai fatto? No. Torna Popka. Correre. Pulsante. Wow. Questo è etico. So dove è andato. Mi servono rinforzi. Siamo qui. Prendilo. Non stanno arrivando. Devo uscire. Oh. La prossima pozione. Sono fortunato. Bego. Bello. Dove è andato? Oh. Lo vedo. È piccolo. Scappo via. Facile. Oh no wow. Nel frattempo. Sento che c'è qualcuno qui. Aspetta. Uno mi ha trovato. Vieni qua. No. Mi dispiace maiale ma è la tua fine. No. Wow ho trovato questo posto illuminato. Il cercatore è qui. Devo stare attento. Popcat spara. Ok. Bravo Popcat. Oh no. Qui. Wow. Il miglior nascondiglio di tutti i tempi. Dove sono e chi è questo? Dottore che sta arrivando. Come? Dove è andato? Un giorno dopo. Ok. Sono rimaste solo cinque persone da mangiare. Schierare i due mostri. Credo che questo maiale sia troppo lento per prenderci. Umè aspetta. Nu. Nascondersi velocemente. Evviva. Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Aspetta. Jumbo. Nab Nab. Sono laggiù. Stanno arrivando. Nasconditi. Ci sono solo alcuni polli. Co co co. Non siamo sus. Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani. Bye. Have a great time. Era così vicino. Un'ora dopo. Questo posto è orribile. Umè aspetta. Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo. Fratello e sorella lo attaccate. Sposto. Umè. Pensa che non lo troveremo. Oh no. Cercherò di nascondermi nel frigorifero. Adesso. Aspetta cosa c'è dentro. Pozione. Cosa. Devo berla rapidamente. Umè. Ti vediamo. Noi ti vediamo. Devo diventare più piccolo. Sto uscendo. Oh no. Veloce. Morirò qui. Non c'è posto per nascondersi. Umè cosa. Torna. No. Devo scappare. Wow un nuovo posto. Vedo pigster. Prendetelo ora. No. Scappo. Umè sono dentro di lui. Fratello l'hai mangiato. Oh mi dispiace tanto. Usciamo da qui. Aspetta sono ancora dentro di lui. L'hai preso? Sì. Sto uscendo da qui. Umè. Aspetta come. Umè. Scappo. Qui. È scomparso. Ok. Ci servono altri mostri. I bambini entrati. Ora prendeteli. No. Stanno arrivando. Mi nasconderò. Qui. Bello. So che è lì. Lui è. Mi veloce. Ciao. Ehi. Torna indietro. Siamo così grassi. Ok. Ce l'ho fatta. Sono in classe con Bambalena. Bambalena. Pensavo fossi morto. Oh non importa. Lei è morta. Hoppia ciao. Nasconditi Popcat. Oddio. No. No. È morta. Pensi che non sappia dove sei? È la tua fine. So dove sei. Dove è andato? 20 secondi prima. Devo uscire da qui. Wow. Oh no. Ho sentito che Stinger è morto. Penso che nessuno mi troverà. Ti vedo. No per favore. Qui. Umme. Vieni qui. Sì mamma prendilo. Lasciami in pace. Lei è un perdente in piedi. Quindi siamo vivi solo io e Giambo. Sono vivo ma aiuto. qui. Wow. Sono troppo grasso. Lo farò per te mamma. Oh no. Sta entrando. Wow. Sono al sicuro qui. Non per molto. Ma qui di sicuro. Non c'è modo. Ok. Giambo è morto. Quindi ora devo sopravvivere e vincerò. Aspetta. Non c'è modo. Quale scivolo scegliere? Pigster. Sono nello scivolo. Oh no. Chi è questo? Torna. Sto scegliendo questo. Oh no. È la mia fine. No fratello. Siamo qui per aiutarti. Oddio Nub Nubs. Non c'è modo. Il vecchio Garden of Van Ben. È medio e cattivo. Abbiamo bisogno di qualcosa di meglio. Come loro. E ho idea di come farlo. Ho bisogno di cambiare quei bambini. No no. Venite con me. Ho dei dolci gatti nei miei scantinati. Evviva mi amo i gatti. Ora entrate in questo barile. Qui. Ok. Entrate. Non ho scelta. Devo scegliere tra queste opzioni. Rosa. Due occhi o quattro occhi. Quattro. Fratello. Grassa o magra. Grass. Bello. Ora sono grassa. Mani di maiale o mani di scimmia. Di maiale. Ho le braccia di maiale. Bocca grande o senza bocca. Grande. Fratello. Nove denti o no. Nove. Naso di maiale. Benissimo. Essere uno chef. Io sono meglio. Gambe corte. Essere spaventoso. Wow. Sono un piccolo porcellino. Ok. Il mio turno. Colore ciano. Essere gigante o piccolo. Gigante. Essere assassino o essere amichevole. Assassino. Faccia sorridente. Essere ultra spaventoso o ultra carino. Carino. O spaventoso. Nu. Sono brutto. Andiamo. Essere viola o trasparente. Trasparente. Forse viola. No no no. Bello. Lingua di serpente o senza lingua. Di serpente. Prossimo. Molti denti o vampiro. Vampiro. Il jumpscare più spaventoso o quello più carino. Il più spaventoso. Testa di cobra o boa. Cobra. Due occhi grandi o nessun occhio. Due. Avere veleno o saliva. Veleno. Oh wow. Alto o basso. Alto. Ah sono figa. L'ultimo è assassino. Ah sono pronto. Fratello. Fa schifo qui. Verde. Occhi strabici o normali. Strani. Odore puzzolente o odore di fiori. Puzzolente. Oh my god. Fratello. Puzzo. Senza denti o con molti denti. No. Ho un aspetto brutto. Punte sulla schiena o capelli sulla schiena. Capelli. Fratello. Borsa della spesa o sacchetto della spazzatura. Ovviamente della spazzatura. Sono così puzzolente. Jump scare. Sono brutto. Io sono il prossimo. Faccia da agguato o faccia da bellezza. Agguato. Fratello. Essere gigante o piccolo. Gigante. Corpo nero. Wow. Collo lungo o corto. Corto. Essere assassino o amichevole. Assassino. Testa a ruota o testa a cubo. Ruota. Ultima scelta. Essere ultra spaventoso. Sono pronto. Ok il prossimo. Cosa dovrei scegliere tra marrone e rosso. Marrone. Bello. Avere una stella o non averla. Averla. Bene. Grande sorriso o grande tristezza. Che cosa addirittura significa la grande tristezza? Sorriso. Fratello. Un sacco di denti affilati o un sacco di occhi. Denti. Bello. Capello a cilindro. Bello. Sceriffo. Grande pancia. Ultimo. Gambe lunghe. Wow. Sono l'ultimo. Grasso o magro. Preferisco essere magro. Viola. Due occhi o dieci occhi. Due. Bello. Essere felice o triste. Felice. Gambe strane o normali. Strane. Essere cattivo. OMG. Wow. Sono perfetto. Wow. Famiglia. Siete pronti? Aspettare. Sei stato arrestato per aver mangiato dei bambini. No. Nanana giorno normale nella polizia dell'Ohio. Popcat devi controllarli. Sì. Oh mio Dio. Vediamo. Il primo è Pigster. Peppa e George si sono fusi ecco come è stata creata. Oh. Bello. Abbiamo Peppa e George qui. Entrare. N.O. No. Oh mio Dio. Così grande. Non è colpa tua. Era più grande di Jambo Josh. Ah. Sono più alto di te. Non dire così. E ora cosa? Lasciami in pace. Mai per le parole che hai detto. Il giocatore pensava che Pig volesse ucciderlo ma lei si sentiva innamorata di lui. Oh no. Vuoi uccidermi? Per favore. Non dire che lo vuoi fare. Per favore. No mai. Ti amo. Anch'io ti amo. Aveva un jumpscare schifoso. Fammi vedere. È stato davvero disgustoso e cattivo. Mangiava i bambini dell'uccellopila. Ecco perché era diventata grassa. È ora di mangiare qualche pollo. Gom. 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 Bene. Cattivo. Hai mangiato quelle dolci galline. Quando le si dai peluche di Peppa Pig smette di insegirti. Wow Pigster è così potente. Attacco. Please 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 Oddio. What is this fatty? Andiamo. Ha litigato con il gatto con gli stivali perché odia i gatti. Odio i gatti. Anch'io ti odio. Wow. Maiale per me è brutto che tu abbia ucciso il dolce gatto È arrivata al gioco ufficiale del maialino e ha mangiato il maialino Ehi pighi dove sei? Nessuno ha più paura di te Sei un vecchio gioco dai video di Krikraft Cosa hai detto? Mi dispiace ma sei fuori Era piccolo ma il dottore l'ha rubato alla mamma e lo ha trasformato in grande Pensavi che ti sentissi? A seta, chi sta chiamando? Fratello Lascia che ti cambi, entra dentro Controlliamo i risultati Non è colpa tua, quindi per me è una buona azione Era super amichevole ma i giocatori gli sparavano proiettili dritti all'occhio Fammi spararlo, sono amichevole, smettiti Sei stato trattato così male, è triste È uscito dalla trappola e ha cominciato a distruggere Brookhaven Non uscirà mai Come? Si è innamorato della ragazza di Big Fiddles ma il dottore l'ha uccisa perché lo stava distraendo Amore Si Mai Ora sarete più concentrati sui jumpscares Ha spaventato il mondo intero e ha distrutto la terra con questo È ora di distruggere il mondo Per me sei una persona cattiva Il prossimo Fratello, sei brutto Era una squadra silenziosa a scuola Il mio nome è Silent Steve e sono Emo È stato morso dal verme viola Smettetela di fare bullismo con me, per favore Ah, Nubemo Oh, sono così cattivo in tutto Ferme Cosa? Ti sei vendicato su di loro, quindi non è male Hai iniziato a trasformarsi in Silent Steve e a spaventare tutti i bulli Ci sono troppi bulli, devo aggiornarmi Forza, sì Facile Snake, eri davvero un bravo ragazzo Vieni qui Il prossimo sei tu Sì, sono io Prima di trasformarsi in mostro stava cercando di risolvere l'omicidio di Skibididop Oh my god Chi ha ucciso Skibi? Questo è il mistero che risolverò L'assassino ha ucciso tutte le persone che amava perché voleva che smettesse di imbagare Uno di voi ha ucciso Skibi Aspettate Aspettate Chi ha fatto questo? Se hai visto chi ha fatto questo metti mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il prossimo giorno Ha trovato l'assassino ed entrambi sono caduti in piscina tossica e mutati Torna indietro ora Mai Ti imprigionerò Sei un guam scerifo per me Vieni Tutti loro sono stati valutati È tempo per il mio aggiornamento Wow sono Pigster LVL1 Valutiamo di più Perché ogni valutazione è uguale nuovo aggiornamento Creatore di Garden of Bambam prima Prima di creare il Garden of Bambam ha valutato tutti i loro jumpscares ed erano spaventosi Oggi valuterò tutti i vostri jumpscares Primo uccello opila Fa paura ma è molto lento quindi non si arriva al secondo capitolo Faccio un po' di cacca jumpscare Il prossimo è Pigster Wow questo urlo è stato fantastico devo dire che è stato grande grande ma non il migliore Il prossimo è Big Fiddles Era medio ma non peggiore Ok la prossima Bambalena Era spaventoso Devo dire che è stato grande ma non è ancora il migliore Il prossimo Jumbo Buono ma non il migliore Prossimo Ho sentito dei suoni strani Quindi è stato molto brutto Ora Joe il puzzolente È stato spaventoso Quindi vi do il massimo Il prossimo è Selina e Lumaca Ti sto dando il cattivo Il prossimo Davvero brutto Non era nemmeno spaventoso Nab Nab il prossimo Sì 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 perfetto Il migliore Te l'ho dato Prossimo Buon jumpscare E l'ultimo Cattivo Morire Sei stato così cattivo con loro Il fratello Per far funzionare il suo piano ha creato delle sculture di Darten of Bambani Le ha vendute Lasciatemi fare sculture Fatto Oddio Conosceva le voci e i volti reali dei personaggi di Darten of Bambam Non c'è modo di mostrarmi per favore Sei solo un insetto per chi ci vive Sbrigati salta dentro ho bisogno di raccontarti una storia E così ci ritroviamo Questa volta non scapperai da me Io vedo tutto Sento tutto Wow conosco le loro voci grazie a te Ha bruciato tutti i personaggi di Darten of Bambam Ah è ora di bruciarvi tutti No per favore Non farlo Ah troppo tardi Sei cattivo per me Mi sento aggiornato Wow il prossimo Guardava le persone quando attraversavano il giardino di Bambam Ma una volta si è spostato Amo questo posto Un me aspetta Ha litigato con un immoscata per averlo copiato Wow 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 Perché mi hai copiato Ha trovato una ragazza e hanno avuto dei figli troppo grandi Ha diventato un uomo grasso e ha cominciato a diventare più grande della terra Sono il più grande della terra Oh my god Zolfius sei un uomo buono Vieni qui Aggiornamento Bello Il prossimo Tutti quelli che lo vedevano pensavano che fosse il ragno Ragno spruzzarlo Muori muori Non è colpa tua Quindi bravo Quando l'hanno messo sotto il piatto Ha scavato un buco ed è saltato su di loro Ragno sotto questo piatto Oh così vicino Ok penso che sia ora di togliere il piatto Cosa Ha scavato un buco oddio Wow 300 IQ Il suo salto è spaventoso Tutti erano spaventati Buono Correva sui muri come l'uomo ragno e combatteva con lui Ok let's go Filmi sei bravo Il prossimo La sua nascita è stata molto divertente Penso che sia il momento Wow sto per uscire come nuova forma di vita Blu o rosa Blu Un occhio o tanti Uno Bello Faccia fissa o faccia normale Normale Un dente o dente normale Un dente Essere un numero o una lettera Un numero Si è riprodotto un milione di volte nell'RP di Brookhaven Il mio esercito è pronto Ha creato F e T per combattere l'uno contro l'altro ma F ha vinto La prossima brava persona Lo adoro Indovinate un po' chi non va in prigione stasera Trick 6 il prossimo Ha scredato tutti gli hacker su Roblox Si è rasato a zero Ho rispetto per il fatto che tu l'abbia fatto per il nene Ha detto di iscriversi a PopCat È stato molto tempo fa Ma grazie trick Vieni qui Mi sento aggiornato Sì È tempo di valutare un altro Primo schibidido È rimasto incastrato nello scivolo e cento persone sono scivolate dopo di lui Tempo di scivolare No Ha fatto slittare il mio turno Ha creato il suo parco giochi solo per le persone grasse Questo parco giochi è solo per persone grasse Sono brava Sì Che dire di me Ha aperto un ristorante dove lo chef del poliziotto Barry scucinava e il cibo era abelenato Il giorno dopo nel mio ristorante Dammi il cibo Di più Qui Buono di più Qui Buono di più Qui Uccinava persone magre Cattivo Successivo Era un piccolo pesce nero ma il dottore lo trasformò in uno squalopalustre Mangiava tutti in un sol boccone Il suo jumpscare era disgustosamente spaventoso Mostrami Stifoso È stato brutto Successivo Bambalina Studente vittima di bullismo in classe Bamballa trasformata in un mostro quando erano bambini Lei si sentiva innamorata di Baldi e lui aveva litigato con Bambam Mi dispiace Bambalena ma sei cattiva E l'ultimo Spaventavano i bambini che non imparavano Il padre dei bambini che avevano spaventato si arrabbiò e li cucinò I bambini a scuola mangiavano il loro cibo Di nuovo molto cattivo Ok Questo è tutto Grazie per aver guardato ragazzi e ci vediamo nella prossima puntata